Scusate se vi disturbo. Questi due signori sono nostri affezionatissimi clienti e siedono sempre a questo tavolo. Mi dispiacerebbe cedere. No, non ci siamo problemi. Grazie, molto gentili. Prego. Grazie mille, signor Pasolini. Ho visto tutti i tuoi film. Grazie. Si stanno spostando. Ora li perdo. Che faccio? Senta, vado a farle una proposta. Nel mio libro ho intenzione di usare alcuni brani tratti.